Salve a tutti cristalline e cristalline, in questo video vi mostrerò come ho realizzato questa nail art per il Natale. Innanzitutto parto dalla mia base, in questo caso ho fatto un monocolore rosso su tutte le unghie, tranne anulare e pollice su cui ho steso un pigmento oro olografico. Dopodiché procedo con l'effetto neve, metto una pallina di gel monofasico e un po' di acrilico bianco. Crea una specie di pasta non troppo solida e neanche troppo liquida e la vado a stendere sull'anulare facendo appunto l'effetto neve. Una volta fatto questo passaggio, senza passare in lampada, applico dei glitter bianchi. Levo l'eccesso e vado a catalizzare. Dopo aver catalizzato e spolverato via gli eccessi, applico un sigillante. Dopodiché con la tecnica dello stamping vado a fare dei fiocchi di neve sulle unghie rosse. E una volta terminato applico anche qui il sigillante. Ed ecco il risultato. Spero il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Un bacio e alla prossima. E buon Natale. Ciao! Ciao! Ciao